Ne approfitto per fare i ringraziamenti, io ringrazio sicuramente l'area, io non ringrazio il sindaco referente, neanche il sindaco spiante, io ringrazio l'area Valmaire e Valgrana per questa accoglienza, ringrazio Regione Piemonte rappresentata ai suoi più alti livelli con la quale la collaborazione è stata forte ed efficace in questi anni, ringrazio ovviamente il Formez per tutto lo sforzo fatto, sono eventi non facili, ha detto il sindaco, organizzarli in queste aree, un evento così, quindi tutti quelli che hanno operato per questo, ovviamente Susanna Costantini del mio ufficio che ha lavorato molto sull'organizzazione di questo evento e anche tutto il gruppo Team Vitalia che è qui, che accompagna tutta la strategia sui territori quotidianamente, io voglio ringraziare sia il gruppo che Invitalia ovviamente, queste sono occasioni uniche, quindi scusatemi se ho preso un attimo di tempo, ma i ringraziamenti hanno tutto il loro valore come sapete, quando il lavoro è tanto intenso. Allora a me l'onere di, qualcuno ha detto la Lucatelli parlerà un'ora, lo sapete che non è il mio stile, non l'ho mai fatto, quindi il più rapidamente possibile volerò, io volevo iniziare dicendo che il primo risultato diciamo di questo intenso anno di lavoro è stata la selezione di tutte le aree interne del Paese, quindi la strategia ormai copre 72 aree, l'ha già detto il Ministro, quindi andrò veloce, trattasi di 1077 comuni, 3,5% della popolazione totale, il 16,7% dei territori. Questa è diciamo la geografia ormai definita delle aree interne che ha come novità importante segnata dal lavoro e dall'impegno di questa legislatura che queste, tutte e 72 le aree sono oggi finanziate, sia dalle risorse nazionali della legge di stabilità che come sapete dalle risorse regionali messe da parte all'interno della programmazione. Un'altra, la seconda slide era dedicata alla, che ve la racconto perché non si vede, non importa, è la mappa delle cinque aree terremotate, questa è importante ricordare che quest'anno è stato molto concentrato sul lavoro intenso di conciliare ricostruzione e strategia che diciamo ce l'è stato molto 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 impegnativo, ok? Cinque aree interne interessate dal terremoto nel 2016 e dalle scosse ripetute nel gennaio del 2017 e la quinta area non era un'area interna, quindi il cratere era interessato da quattro aree, c'è stata la richiesta esplicita sia del Ministro che dell'allora Commissario Errani di allargare il perimetro delle aree interne all'area dell'Alto Aterno, quindi quest'anno l'abbiamo dedicato anche alla selezione di questa quinta area e quindi siamo arrivati alla definizione della geografia delle aree interne. Queste 72 aree sono caratterizzate da una particolarmente spinta perdita della popolazione, quindi questo significa che il comitato e le regioni con il lavoro intenso di campo e di territorio hanno riuscito a selezionare, come chiedeva l'accordo di Pertenerato, le aree che maggiormente perdono popolazione e sono aree caratterizzate da un particolare invecchiamento e come è stato ricordato anche stamattina dal Ministro sono aree che sono colpite da un più forte digital divide. La novità di questa tabella che vi porto, che vi avrei voluto mostrare oggi ma che avrete anche nella reazione al Cipe è che abbiamo potuto anche fare un'analisi reddituale grazie alla collaborazione con Anci, Ifel e vediamo sancito questo gap che sappiamo anche dal punto di vista del reddito medio imponibile che è circa di 20% fra le nostre 72 aree e il reddito IRPEF dell'Italia. L'altra parte della presentazione l'ho dedicata al tema delle diseguaglianze perché ricordiamo, non l'ho ricordato in apertura, che siamo all'interno della settimana ASVIS sullo sviluppo sostenibile, siamo all'interno dell'intenso lavoro, siamo diciamo in partnership con l'intenso lavoro del forum sulle diseguaglianze e quindi oggi volevo dedicare questa presentazione anche a riflettere con voi su alcune caratteristiche delle diseguaglianze delle aree interne rispetto alle aree del paese. Alcune sono strutturali e ne ha fatto cenno precedentemente il Ministro quando parlava di aree caratterizzate dalla presenza di classi molto piccole, quindi da plessi molto piccoli, da classi fino a 15 alunni che sono il 42% nelle aree progetto e a fronte del 19% in Italia. Sempre queste aree sono caratterizzate anche da un tasso di mobilità molto elevato perché abbiamo un tasso di mobilità dei docenti, ah ce l'abbiamo fatta, ottimo, grazie. Io salto le precedenti, tanto le ho raccontate poi le vedrete, stiamo sulla sulla diseguaglianza dal punto di vista dell'educazione, quindi vediamo il tasso di mobilità dei docenti particolarmente elevato nelle aree progetto, nelle nostre 72 aree, che è un 12% a fronte del 10% e un altro indicatore delle diseguaglianze sono i due indicatori degli esiti, sia della matematica dell'italiano, nella competenza in matematica nelle primarie, nelle secondarie di primo livello e la competenza in italiano. In tutti i due i casi abbiamo un gap di due punti percentuali, quindi un gap rilevante. Passiamo adesso alla descrizione di alcuni aspetti della diseguaglianza invece dal punto di vista sia della strutturale, diciamo, della remote, ness, della distanza media di questi comuni dei poli, che poi lo sappiamo, l'abbiamo selezionato così, quindi abbiamo 47 minuti dal polo più vicino e questo ovviamente si traduce in una serie di difficoltà dal punto di vista sanitario. Innanzitutto questo tempo molto lungo di percorrenza tra la chiamata dell'urgenza e l'arrivo della tombulanza, questo è l'indicatore, forse è uno degli indicatori simbolo diventati di aree interne, con tutti i territori, abbiamo lavorato tantissimo, adesso vi farò vedere quello che abbiamo costruito in termini strategici e di progettazione, bene, 25 minuti sono molti, io vi ricordo che alcune aree, le aree più interne arrivano a volte anche a 40 minuti e sempre dal punto di vista sanitario, oggi mentre mi preparavo stamattina molto presto ho messo un cerchio in questi due indicatori perché trovo che l'ospedalizzazione inappropriata e le prestazioni basse in specialistica, questi due indicatori vanno letti veramente insieme perché significa che non solo facciamo un uso inappropriato dell'ospedale che già di per sé è un simbolo della non capacità della rete territoriale sanitaria di far fronte a quello che dovrebbe fare, ma il fatto di avere anche una specialistica più bassa significa che non solo questi cittadini sono costretti a rivolgersi all'ospedale e andando anche molto spesso, ricordiamoci che molte delle nostre aree non hanno come sapete bene un ospedale, quindi si spostano e fanno chilometri e chilometri per andare a curare in maniera inappropriata negli ospedali ma allo stesso tempo non c'è neanche una specialistica adeguata presente sul territorio, quindi soltanto alcuni aspetti, adesso vi spaventerò perché un'ora delle lucatelle implica anche qualche grafico un po' più così, però questo ve lo semplifico tantissimo, è facile però io lo trovo tanto eloquente, questo grafico ci dimostra come ci sia una leggera, anche se leggera perché sapete che sono pochi elementi che osserviamo, quindi qui Andrea Faccini e tutto il mio gruppo statistico che ringrazio mi spiega che le correlazioni quando le analizziamo su pochi casi come questi non sono particolarmente significative, però noi vediamo chiaramente che maggiormente l'area è distante dal polo, quindi maggiormente c'è un fenomeno di mobilità dei docenti, quindi è una caratteristica particolarmente legata alla distanza e quindi alla caratteristica vera e propria delle aree interne e poi vediamo anche questi pallini rossi con cui è disegnato il sud e vediamo queste crocette, quindi vediamo pure insomma come il fenomeno lo sappiamo, non ci sorprende, però anche nel caso di aree interne è più marcato nelle aree interne del sud. Quest'altro invece che assomiglia a quell'altro è anche particolarmente interessante, sempre il tempo di emergenza urgenza, questo è particolarmente interessante perché vediamo che se in media tutte le aree interne del paese, le 72 parlo sempre, se in media hanno un tempo di emergenza urgenza più alto della media del paese che è di 15 minuti, 17 minuti, vediamo anche come non necessariamente in questo caso sia la distanza dal polo che spiega la particolarmente poco efficace organizzazione del servizio, quindi questo significa che c'è un margine, che poi è il margine che ci prendiamo noi, in aree interne, ovviamente come ha ricordato anche bene il sindaco referente, in maniera il più possibile coordinata con le politiche ordinarie perché non potrà fare tutto a aree interne, però c'è un margine di miglioramento della politica che in questo caso passa proprio per il miglioramento dell'organizzazione sanitaria territoriale. Veniamo all'avanzamento dei lavori in aree interne, queste sono le mappe che ormai siamo abituati a condividere a ogni forum, le ho dovute semplificare perché ormai le aree sono 72, quindi ho abbandonato il modo in cui le analizzavamo sempre, prima, seconda, delibera, terza delibera, ho messo qui tutte e 72 le aree insieme e vi invito a guardare in particolare diciamo il verde scuro che sono tutte le prime aree che con orgoglio abbiamo chiuso in tutto il nord, quindi tutte le prime aree hanno chiuso la strategia, le seconde sono le verdi chiaro, sono in piena elaborazione del preliminare, direi a buon livello nel nord del paese tutti i preliminari sono chiusi o comunque in istruttoria molto avanzata, abbiamo tutte più o meno le aree rosa, sono tutte quelle che hanno chiuso una bozza, c'è un'area di celestino che sono le aree a cui ha fatto cena anche l'assessore poco fa, sono le famose terze e quarte aree sulle quali ne colgo l'occasione di questo appuntamento in cui siamo così tanti numerosi tutti insieme per dirvi che vi convocerò piano piano regioni e territori tra il mese di giugno e luglio, prima dell'estate per lanciare anche le attività delle terze e delle quarte aree. Nel centro abbiamo una situazione sostanzialmente simile a quella analizzata al nord, vedremo che le tre parti del paese si stanno muovendo con una velocità, per quanto riguarda il disegno delle strategie, una velocità abbastanza simile, quindi non registriamo una particolare difficoltà se non in qualche aspetto, ovviamente in questo caso per esempio la difficoltà è legata all'area del craterio, non ci sorprende l'area del terremoto sulla quale abbiamo dedicato tantissima attenzione, abbiamo anche cercato in accordo con l'agenzia di semplificare il processo, quindi abbiamo dato la possibilità di abbreviare le tre tappe e passiamo direttamente ad un preliminare strategia per le aree del terremoto, anche per mandare un messaggio così di concretezza, ovviamente come vedete abbiamo un'area un po' più avanzata che è quella del Piceno, abbiamo un maceratese pure che sta stringendo sul preliminare e abbiamo invece l'alto aterno su cui stiamo per iniziare, abbiamo appena approvato la bozza e l'area di Nocera pure che sta ancora iniziando i lavori. Veniamo al mezzogiorno, qui abbiamo, stiamo stringendo, possiamo dire, abbiamo qui rappresentante regione Calabria, possiamo dire che stiamo stringendo l'ultima area che deve chiudere la strategia di tutte e 23, che è l'area del Reventino Savuto che anche sta chiudendo con un forte impegno perché sta prendendo decisioni importanti, io voglio ricordare che le aree che decidono di fare un plesso unico ci prendono un po' più di tempo perché comunque devono mettere d'accordo i sindaci per una decisione importante come quella di costituire una scuola, un'unica scuola, quindi sono aree più faticose, vediamo che comunque abbiamo chiuso tutte le aree pilota, quindi abbiamo i Monti Dauni che hanno chiuso, hanno chiuso la Marmilla e abbiamo un discreto avanzamento anche in queste aree, stiamo lavorando intensamente su un impegnativo preliminare sia nelle aree dei Nebrodi che del Sud Salento, mentre la Grecanica ha già chiuso il preliminare. Veniamo qui rapidamente, faccio un punto sulle seconde aree, così so che voi siete sempre, diciamo vi fa piacere vedervi tutte quanti, ecco qui siano tutte le seconde aree, vedete che abbiamo più o meno i preliminari o chiusi in istruttoria, mancano due preliminari, aspettiamo in queste settimane quelle del Mercurio e Altosini della Basilicata e delle Gen Argento e Mandrolisae che sono gli unici due preliminari delle seconde aree non ancora pervenuti. Adesso vorrei dedicare qualche momento invece a questa slide che è la slide, visto che abbiamo riflettuto molto, che molto spesso che rifletterete, che sentirò cosa ne pensate di questi tempi lunghi, io vi porto i tempi misurati, quindi noi è noto, confrontando la prima fase alla seconda fase, che noi confermiamo i tempi. Allora per scrivere un preliminare di strategia ci vogliono nove mesi e per arrivare a stringere, a chiudere una strategia ce ne vogliono dodici. Quindi questi ormai sono dei tempi abbastanza accertati e confermati dalla seconda fase. Io ho provato a ragionare come mai, mi aspettavo, devo dire, ho tentato e mi aspettavo che la seconda fase avrebbe abbreviato un pochino, visto che tutti quanti siamo con un processo lungo, che dobbiamo in qualche modo renderlo più fluido. Abbiamo spinto molto tutti noi del comitato per stringere, però, perché non ce l'abbiamo fatta? Essere più veloci, ho provato a darmi qualche risposta. Innanzitutto le prime aree erano le pilota, proprio perché erano quelle che avevano già un'unione di comuni, comunque una capacità di progettazione più avanzata, quindi erano aree in qualche modo più facili. Le seconde, le terze, le quarte non necessariamente lo sono, quindi c'è una complessità collegata ai territori. C'è poi un tema, questo mi auguro che l'Agenzia l'abbia registrato, noi abbiamo anche cercato di chiudere strategie con un livello di progettazione un po' più avanzata per rendere più fluido il lavoro poi alla costruzione dell'APQ, quindi stiamo un pochino, ve lo dico, lo dico anche alle aree che iniziano e che lavoreranno nel prossimo futuro, abbiamo cercato di rinforzare gli sforzi e l'avanzamento della progettazione in strategia. E niente, a questo tempo, poi lo dirà l'Agenzia, si somma il tempo dell'APQ, quindi effettivamente è una partita che prende tempo. Ecco le risorse, abbiamo impegnato, io ho scritto impegnato con un approccio territoriale, perché non mi piaceva scrivere programmato e basta, perché abbiamo programmato già nei programmi, quindi insomma il lavoro della strategia è qualcosa in più della sola programmazione. Abbiamo quindi disegnato in maniera strategica circa 400 milioni di euro, ok? Qua abbiamo scritto 389, poi vedrete che c'è un'analisi che vi presento dopo che implica anche i cofinanziamenti e le risorse private, che è un po' più alto il numero, arriva a 435 milioni di euro. Queste sono soltanto 23 strategie, tanto per darvi un esempio, il Ministro oggi ha parlato di un miliardo e ovviamente questo essendo 23, anche se solo facessimo 435 per 3, capiamo che arriveremo a superare il miliardo di euro quando chiuderemo tutta la partita, sperando di arrivarci e di arrivarci con un adeguato finanziamento anche da parte dei fondi comunitari. Queste risorse si dividono più o meno in un 55% che vanno a favore delle aree interne del sud, 36% del nord e 9% del centro. Questo non lo vedete qui, ma insomma è un calcolo veloce che vi potrete fare con queste slide e vediamo anche come più o meno nell'insieme il fondo che sta finanziando di più, che quindi ha una percentuale più alta delle risorse è il FESR con il 47%, seguito più o meno a pari medico con il 22% dalla legge di stabilità, quindi dall'impegno dello Stato e dall'impegno del fondo agricolo. Il meno impegnato in questa partita al momento in termini di quote percentuali è il fondo sociale che ha un 7,6%. Vediamo che questa stessa ripartizione, questo stesso impegno per fondi lo vediamo qui per le diverse aree e vediamo anche l'impegno assoluto, quindi vediamo che le strategie hanno in media 16 milioni di euro. Questa media ovviamente è molto differenziata, abbiamo delle strategie, la più spinta nella finanziaria è quella dei Monti Dauni che arriva addirittura a 64 milioni di euro, ne abbiamo invece di molte piccole, tra i 5 e i 6 milioni di euro che sono l'Antola di Cuglio e il Tesino. In mezzo abbiamo ovviamente come vedete dimensioni di finanziamento, questa differenza di impegno finanziario lo sapete bene è grandemente e fortemente collegata anche alle risorse finanziarie che erano state messe da parte all'interno dei fondi comunitari e anche alla capacità procettuale di espressione dei territori e all'impegno particolare che hanno preso solo alcune regioni del Mezzogiorno, in questo caso per esempio l'Irpinia e i Monti Dauni, sullo sforzo di infrastrutture stradali che sono poi anche risorse che hanno parecchio alzato il peso finanziario delle strategie. Veniamo adesso ai risultati, io presento i primi risultati, un risultato che presento con orgoglio è che 25 dei nostri territori hanno assolto il prerequisito dell'associazionismo, quindi vuol dire, lo sapete che è un prerequisito senza i quali non si può andare in APQ, quindi vuol dire che tutte le strategie che sono state inviate, che vengono inviate all'agenzia, sono strategie che hanno compiuto il loro percorso di associazionismo. Vediamo che le soluzioni, io non mi ci fermo molto, anche perché il tempo è poco e lo farà molto meglio di me il Formez nella sua presentazione, dico solo che abbiamo delle geometrie variabili, cioè si passa da soluzioni che passano per unioni, unioni comuni, convenzioni di unioni, che sono le soluzioni che qui vi presento, ma la cosa che mi interessa è mandarvi due messaggi particolari, che in queste aree, in questi territori abbiamo ben 12 casi di fusioni di comuni, quindi qui dico che l'esperienza e i desiderati e le esigenze dei territori vanno molto spesso più veloci delle intenzioni delle polisi, quindi io credo che su questo il comitato, la federazione, che sarà sempre più attiva, in questo anno dovremo spingere sulla federazione, sarà probabilmente un tema da affrontare forse con un po' più di coraggio questo delle fusioni dei comuni. Vediamo le scelte che stanno facendo i nostri territori, i nostri territori hanno scelto di associarsi in particolare sui servizi informatici e digitali, sulla protezione civile e sul catastro, queste sono le tre temati. Un'altra cosa importante che stanno facendo, con più attenzione, è una scelta delle funzioni associate sempre più corrente agli obiettivi e risultati attesi della strategia, in questo notiamo che c'è un miglioramento in questo e sempre la relazione al Cive mi ha insegnato, nello scriverlo e nella prepararla con i nostri esperti, che le regioni e i territori che avanzano meglio su questo tema sono proprio quelli che sono accompagnati anche da una legislazione regionale, quindi laddove c'è un impegno della regione sull'associazionismo effettivamente c'è poi un risultato anche più spinto di questo impegno. Veniamo invece adesso agli importi e ai temi affrontati dalla strategia. L'ha detto il Ministro, delle 23 aree, quindi parliamo di quei 435 milioni di euro che vi ho detto prima, circa il 62% va a interventi in favore dello sviluppo e il 38% invece ai servizi. Qui vediamo anche elencati per importanza dal minimo, dato che ci deve far riflettere, un minimo intervento di 5,5 milioni di euro all'efficienza e trasparenza della PIA. Credo che su questo tutti noi, federazioni e regioni, dobbiamo fare una riflessione, perché è un dato molto basso a fronte invece delle esigenze elevate di questi sistemi intercomunali di essere sostenuti e rinforzati, esigenze sulle quali tornerò anche quando farò un po' un punto sulle capacità di queste amministrazioni locali in termini di organizzazione del personale, ha impegni più spinti su temi come la natura, il turismo e i beni culturali, che hanno un totale dell'investimento di 79 milioni di euro e il 18% del totale, e anche impegni, emergono importante come sforzo finanziario, l'investimento a favore sia delle imprese che quello a favore della mobilità e della salute. Questi sono dati che io non commento tutti, perché vi lascerò questo materiale, lo trovate anche nella relazione al Cipe, la cosa importante è fermarsi, soffermarsi sui più importanti risultati attesi che questi territori si sono dati. Nel caso del tema della scuola, circa il 24,5 milioni di euro sono stati dedicati al risultato atteso di accrescere la propensione dei giovani e a permanere nei contesti formativi. Qua dentro troviamo interventi di tipo diverso, dalla qualità alla sicurezza dei plessi scolastici, alla scelta di un plesso unico, di avere una scuola bella, accogliente per questi studenti. Ma abbiamo anche un grosso sforzo per ridurre gli abbandoni e la disfunzione scolastica, 23%. Passiamo al tema della... qui avevo lencato qualche esempio di intervento, ma vado veloce perché so che siamo in ritardo. Passiamo alla salute. Il risultato atteso maggiormente perseguito è stato quello di accrescere il numero della qualità dei presidi sanitari territoriali, circa il 19,8 milioni di euro, ma anche con 17,7 milioni di euro l'obiettivo di ridurre l'ospitazione inappropriata. In questo caso quindi l'impegno su ADI, su tutto l'intervento sanitario a domicilio. Qualche esempio di interventi sono gli interventi di emergenza-urgenza, come l'elisoccorso notturna, l'autosoccorso di comunità. Qualcuno ve lo voglio dare perché vi voglio ricordare che in area interna non è sempre importante. Abbiamo faticato a costruire queste slide proprio perché la prima proposta che mi è stata fatta è stata mettiamo gli interventi dove abbiamo messo di più risorse. Io invece ho voluto presentarvi anche gli interventi più innovativi dal punto di vista perché non sempre il totale delle risorse impegnate poi è quello che dà più senso di quello che stiamo facendo e quindi era importante che si vincesse il sforzo anche in termini di riorganizzazione della rete territoriale, i punti della salute, i centri territoriali della salute e della montagna, ma anche gli interventi di facilitazione dell'accesso alle cure attraverso il ricorso alla telemedicina che molte aree stanno facendo, penso all'Antro, al Basso Pesarese, ma anche all'inserimento di figure innovative, di funzioni innovative come la funzione dell'ostetricia di comunità e degli infermieri di comunità che stanno attecchendo in molti territori. Per quanto riguarda invece l'intervento della mobilità, dal punto di vista dei risultati attesi si sta lavorando per accrescere la sicurezza stradale, ma anche come sapete bene, come è stato raccontato anche dal sindaco, per la riorganizzazione del TPL sui territori. Qui salto perché il tempo è poco e voglio conquistare un po' di tempo. Una parola sulla federazione perché so che c'è molta attesa, quindi voglio da un certo punto di vista rassicurare e dall'altra voglio spingere gli attori interessati anche a presentare le proprie stanze. Abbiamo fatto un primo incontro con i sindaci, abbiamo raccolto le esigenze più spinte dei sindaci, sulla base di queste esigenze abbiamo lanciato un primo ciclo di seminari, è stato raccontato il lavoro fatto in Val Chiavenna sui temi ecosistemici, abbiamo previsto un secondo incontro il 28 giugno nel Basso Pesarese per affrontare le questioni dei beni culturali, abbiamo individuato con un semplicissimo primo documento, quelle che secondo le prime riflessioni fatte insieme ai sindaci potrebbero essere le funzioni più importanti della federazione che è l'incontro tra le aree progette per scambiarsi e per condividere temi di interesse reciproco, la circolazione evidentemente delle informazioni, ma soprattutto sperimentare insieme, condividere le soluzioni maggiormente innovative e una funzione sulla quale io credo sia molto importante quella che sarà la funzione della federazione è proprio quella di ricordare alla normativa nazionale il ruolo di sperimentazione di queste aree anche nell'importanza di poter spingere a degli avanzamenti sulle normative che noi sappiamo essere importanti per poter fare un passo in avanti. Sempre in termini di riflessioni finali voglio portare qualche statistica sulle dotazioni di personale dei comuni, dei nostri comuni, delle nostre 72 aree, qui porto dei dati sconfortanti perché vediamo come il totale, la maggior parte, innanzitutto il dato che mi ha colpito di più è questa perdita, questa diminuzione proprio del personale che scende da un anno all'altro, scende proprio la dotazione di personale, in più trattasi di personale con età molto avanzata e è ancora di più preoccupante il fatto che i laureati sono molto pochi e che sono per la maggior parte personale che si ferma diciamo al livello di diploma. Quindi io li commenteranno maggiormente gli esperti, però io credo che noi dobbiamo tutti quanti, anche nell'idea di una governance ed è più strettamente dedicata all'attuazione, ragionare molto perché se non si prenderà un impegno di rinforzo di queste compagini locali, insomma tutta la tenuta della partita a mio avviso è a rischio. Arriviamo alle conclusioni, Lucio l'ho chiamato bene e male, forse è meglio chiamarlo Lucio e ombre, partiamo dalle luci, è sempre meglio partire dalle luci e poi ci fermiamo alle ombre. Cosa stiamo facendo? 450 milioni di euro programmati, la collega ci dirà più o meno il 50% se non erro, già in APQ, quindi già in piena attuazione, è un buon risultato. Ricordo, tanto per darvi un'idea, per dare un senso di grandezza a questo numero, che il pommetro rappresenta il doppio, quindi vuol dire che quando noi chiuderemo per le nostre 72 euro una cifra che si avvicina a quella che è il programma, e lo supererà, il programma del pommetro. Stiamo sperimentando con fatica, è stato detto l'apertura, lo diciamo un po' tutti, stiamo presentando un approccio place-based difficile, è difficile piegare queste politiche ordinarie, ricordo qua qualche contraddizione, abbiamo detto che in questo forum dobbiamo essere ancora più schietti e sinceri, mentre abbiamo firmato un APQ per l'apertura di un plesso scolastico nel basso sangro, stiamo lottando per riuscire a concretizzare con grosse difficoltà questo plesso, ma al tempo stesso stiamo mettendo in discussione delle pluriclassi e delle classi per un alunno, quindi credo che lo Stato, lo Stato debba essere coerente, che se questa è una strategia nazionale, lo Stato si debba impegnare nei diversi tavoli, quindi questo è un po' anche un grido di dolore che faccio a tutti noi, cioè non è che Regione fa una cosa in un dipartimento e non la fa in un altro, oppure l'USR lo fa con aria intenne ma non lo fa quando va a negoziare le classi, oppure il Ministero o la Presidenza fa una cosa in aria intenne e ne fa un'altra da un'altra, credo che ci sia, bisogna impegnarsi in maniera coerente e più spinta in questa strategia, stiamo creando una cultura delle aree interne, bisogna che sempre di più queste aree parlino insieme nell'ambito della federazione, ma che si parli, che si discuta di questi problemi anche nelle città, bisognerà arrivare nelle scuole, non solo nelle scuole delle aree interne, ma anche nelle scuole delle città, e quindi insomma è un lavoro che ci aspetta, c'è un tema proprio di, ci sono sempre più università, ricordiamo l'impegno sempre più profuso delle università, si stanno aprendo corsi sulle aree interne, master, sempre più università si associano, abbiamo degli accordi nell'ambito dei lavori di istruttore che stiamo facendo, nelle aree del terremotato abbiamo un accordo fra quattro università, è importante, nelle Marche, abbiamo un'università impegnata nell'Alto Aterno. Stiamo introducendo figure innovative, l'ho già detto, e stiamo soprattutto accompagnando, come vi ho fatto vedere, processi importanti di associazionismo. Quali sono le minacce? Tempi lunghi, tempi lunghi che sono diciamo in parte inerenti all'operazione, cioè scrivere una visione strategica con i territori, è un'operazione, scriverla anche in accordo con sindaci e comunità, è un'operazione che di per sé prende tempo, però poi dopo perdiamo tempo per tanti altri motivi, quindi diciamo quando parliamo di burocrazie difficili, di istruttorie, la sottoscritta per avere un parere, talora deve parlare fino a cinque funzionari diversi, nello stesso ministero, è chiaro che questo tipo di difficoltà rendono la partita più lunga e più difficile. Molto spesso si dimentica che è una partita a tre livelli, quindi si va avanti in solitaria, il centro va in solitaria alla regione, queste cose non aiutano, io dico sempre che è meglio un invito al comitato che partecipa a delle riunioni in regione, è meglio un invito in più a una regione che venga a Roma, perché dialogare insieme semplifica, perché è inutile costruire tutto un pezzo di partita se poi si deve ridisegnare a Roma, perché a Roma non va bene, quindi poi si ridisegna a Genova o dove sia. C'è un tema serio di programmazione che va avanti e di messa a rischio dell'innovazione e del coinvolgimento degli attori innovatori sui territori, questo dobbiamo essere sinceri, tante esperienze che abbiamo intercettato non siamo riuscite né a portarle avanti, né ad assicurare di progettazione, non siamo riusciti a far corrispondere la progettazione laddove c'erano le idee migliori, un po' perché la programmazione come è disegnata e quindi ci vuole un impegno, lo dico qui perché abbiamo le regioni, ci vuole un impegno dello Stato e delle regioni a fare in modo che la progettazione integrata territoriale nel prossimo periodo di programmazione abbia delle regole che gli permettano di operare nella maniera più facile possibile e c'è poi un tema di sostenibilità a tutti i livelli, è un'operazione innovativa proprio perché innovativa ha bisogno di risorse, io qua ricordo che tutto il comitato opera con una dotazione di personale precario costantemente alla ricerca di rinnovi, ricordo che sono sottostaffati sia gli uffici di tutti gli uffici, quindi noi facciamo miracoli nel chiudere accordi di programma quadro con uffici che seguono tantissime altre regioni, tantissimi altri impegni, operiamo anche nelle regioni, molto spesso le regioni hanno lamentato questo problema perché Arentella è entrata dentro uffici regionali che non sono stati rinforzati, idem a livello locale, quindi se una strategia viene lanciata deve anche essergli assicurato la capacità proprio dal punto di vista della dotazione e dell'organico a disposizione per poter essere perseguita. L'attuazione sarà un momento, ce lo siamo detto, ce lo diciamo sempre con il lavoro intenso che facciamo in questi mesi con l'agenzia, l'attuazione deve essere sorvegliata a tutti i livelli, ci deve essere quindi un forte indirizzo e una forte volontà politica, quindi qui ce la giocheremo molto nel prossimo governo, ci vuole però anche organizzazione, capitale umano, trasparenza e ricordo anche quest'idea dell'accountability. Abbiamo disegnato una partita sui risultati attesi, bisogna che i sindaci e le comunità locali utilizzino questi risultati anche con l'aiuto del comitato e dell'agenzia per fare in modo che le comunità locali possano diventare se stesse, che possano domandare loro che questi risultati vengano raggiunti. Per questo invoco l'organizzazione dei territori, delle comunità dei territori anche dal punto di vista della comunicazione locale, noi notiamo che ancora non siamo conosciuti, noi passeggiamo nelle vostre aree e ci accorgiamo che non si sa cos'è la strategia delle are intenne. Quindi qui io chiedo un impegno rinnovato ai sindaci, adesso avete le risorse di assistenza tecnica, fate in modo anche di avere una radio, di avere dei giornalini dentro le scuole, perché se questa strategia non viene comunicata alla cittadinanza avrà poco futuro. C'è poi il tema, last man on list, direbbero gli inglesi, questa rigidità, questa rigidità della legislazione, che voglio, l'anno scorso ho detto lo stretching, quest'anno dico ancora peggio, quest'anno è ancora peggio, perché non c'è più lo stretching, in questa fase io credo che ci sta un momento in cui ogni amministrazione si sta impuntandosi rispetto rigido della legislazione e non c'è neanche più lo sforzo di interpretare la legislazione alla luce di territori che fanno parte di una strategia nazionale. Credo che se la federazione non ci aiuterà a fare un passo avanti in questo, purtroppo non usciamo, perché se un territorio che è attenzionato dallo Stato, gli si chiede di fare una pluriclasse in più, perché per un anno ha nove alunni invece di dieci, io credo che non abbiamo capito il senso di questa operazione. Mi auguro di non aver parlato per un'ora, buon lavoro. Grazie.